Ho sempre e abbiamo sempre avuto il supporto dei nostri vigili del fuoco con grande passione e grande impegno e soprattutto senza contare i minuti e le ore di volontariato che fosso il mondo, quindi vi ringrazio davvero in maniera non formale. E poi vedrete quando si avvicineranno a ritirare questo riconoscimento che il nostro Federica Giancarello porta le stampelle perché è sia un'attività di volontariato, noi siamo abituati a vederli sfrecciare con le sirene accese, ma è anche, lo sappiamo tutti, un'attività estremamente pericolosa che loro fanno in ottica volontaristica per la nostra comunità e questa è la testimonianza e vi ringrazio che tutta la comunità ti augura una pronta guarigione per vederti di nuovo operativo con il tuo gruppo per cui sfida tu il porto di origine, grazie. L'amministrazione comunale è ritenuta. Con stima e riconoscenza contadisce la civica beneverenza all'associazione Amici Vigili del Fuoco di Idolo, 1890 Aulus, per arti di coraggio e abnegazione civica. Un bel applauso.